Stiamo per sonsegnare questo preno alla professora Sermic Tachic le nostre creazioni naturali e oggi sono abbastanza solidari ho invece parlato qui al centro davanti alla taffeta dove si è svolta la relazione e il prego della Fondazione della Tena, la cometa del maestro Cervoli e poi la medaglia del Presidente della Repubblica. Ecco. E' naturalmente felice, commosso di questo gesto, di questo prego. Piede soprattutto per vivere in un paese che mi ha dato così grande un piacere nella sua vita e a cui è molto legato. E allora un attivo, la cosa dell'italiano mi deve chiedere per salutare. Grazie. Credo che sia stato anche un privilegio dello spirito per tutti a oggi assistere a quanto è stato sicuramente visto e ascoltare gli interventi. Abbiamo parlato di filosofia del bello, di percezione positiva e visibile del bello, di estetica, di scienza dell'intelligenza, di filosofia e scienza, quindi di tutto e abbiamo anche forse capito meglio quello spazio che passa dalla sucessione anche del bello all'apprendimento. Grazie alla ricerca dei nostri scienziati, quindi noi lo risolviamo per questo tema. Grazie a te. Grazie mille, professore. Grazie a te, ragazzi. E allora, per esempio, adesso ho un premio a Pena e sarà di Dottor Giammetta a consegnare questo premio. E il premio a Pena va, con questa comprensione che adesso io direi, con per i suoi importanti contributi al progresso delle neuroscienze, conferiamo alla professoressa Albevoli, il premio a Pena. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Le domande, ma è la domanda per fuori, anche perché le recette, i successi sono arrivati negli Stati Uniti, ma in Italia naturalmente è sempre il primo posto, ma è sempre la scoperta che c'è la comenda della Fondazione Albevoli, ma anche naturalmente la medaglia del Presidente della Repubblica. e vorrei sottolineare e ricordare con la dottoressa, questa, come una volta, questa scoperta è importantissima. ecco, adesso io ho la consiglia anche della reale. Ecco, quella è la scoperta di questo, di un ormone che costituisce una speranza, un inizio di lavoro sullo zaino, sullo ormone. Sì, abbiamo trovato questo ormone cercando tra le contiglie e le sostanze che vengono rivolate nel cervello quando si formano le memorie molto tervele. E poi abbiamo visto che quando subito, istiamo questo ormone, aumentiamo il memorie molto significativo, e anche la durata delle parole. E da qui stiamo passando adesso, nel tempo di l'alettia, abbiamo risultato veramente di così. E poi c'è davvero la speranza che questo inizio, e poi ovviamente dal modello in animo, come abbiamo sentito, non ci sono assolutamente passaggi da fare. Ma insomma, sicuramente ci sono dati molto continuosi di dire. Ha cominciato il professor Srinari con una delegazione insidita, dice puntuale ad una sua amica inglese, del bello della lingua italiana. E ci ha fatto capire a quante situazioni diverse questa parola cosa parla. riferimento e dare significato. Per concludere, porco, la metà con le cinematografiche di faccio di lì, di quella scoperta del bello, attraverso il creato, per quella maniera che per la prima volta, un oggetto che oggi accende, scopre la bellezza. Perché attraverso, tra conto, l'esperienza che noi abbiamo fatto, la visita al museo, e il godimento davanti ai propri dati, ci ha fatto capire l'influenza del bello, sullo spirito. E poi è arrivato il professor Srinari, che si è fatto con la meravigliosa dimostrazione, introducendosi ai segreti, ai misteri, di questa macchina misteriosa, che è il cervello umano, facendoci capire la funzione del bello, attraverso quella pensazione dubbice, che è unitiva e visuale, al termo stesso, della conoscenza. come tutti quelli che già gli hanno ascoltato. Però io penso che se stanno facendo questa, ma per voi, rimuovere la vostra testa, alla vostra sinistra, per capire che non si stesse. Meraviglioso e vivente, ciò che significa unire, bellezza, c'è un regolamento. che si stanno facendo la meravigliosa dimostrazione, la meravigliosa dimostrazione, la meravigliosa dimostrazione, la meravigliosa dimostrazione, la meravigliosa dimostrazione. Quindi sono due cose che voi ci avete incontrato come siano qui, ma noi abbiamo potuto visualizzare nella splendida immagine di Cristina Alperini. Ci fa sperare, potete continuare a godere, perché rafforzata la vostra memoria ci assicurerà la possibilità di sbloccare tanti altri paesi di fronte per le conoscenze di Cristina Alperini. Tanti auguri! Grazie! Grazie!